In primo piano ci sono gli scontri che in queste ore si stanno verificando in Iran. Arrivano in corrispondenza con le celebrazioni della Shura e sarebbero almeno 10 morti, 10 manifestanti uccisi dalle forze di sicurezza nel centro di Teheran, nel corso delle manifestazioni indette dagli oppositori del regime. Tra loro, secondo un sito web riformista, ci sarebbe anche il nipote del leader dell'opposizione, Musavi. La polizia però nega che ci siano stati morti e la notizia non può nemmeno essere confermata da fonti indipendenti perché ai giornalisti che si trovano nel paese è stato vietato di raccontare quello che vedono, è stato vietato di raccontare le proteste. Le notizie e le immagini però filtrano attraverso il web. Sui social network, YouTube e Facebook, sono stati pubblicati diversi firmati che riportano la data di oggi e in cui si vedono corpi di giovani a terra nel sangue e si sentono alcuni colpi di pistola.